Oggi la Repubblica scrive che secondo i calcoli tecnici del Governo l'abrogazione dell'articolo 18 vale 200 punti di spread. Che cosa ne pensa di questa previsione? Secondo lei può convincere i sindacati e quei partiti che non sono molto convinti di questa abrogazione a cambiare idea? Io non ho letto l'articolo di Repubblica e non conosco questi conti. Devo dire che mi sembrano poco verosimili per diverse ragioni. La prima ragione è che ancora resta da dimostrare in ambito scientifico gli effetti di un'ulteriore liberalizzazione del mercato del lavoro sulla crescita. Anche la questione dell'articolo 18 sembra in effetti un aspetto che potrebbe avere conseguenze marginali e non necessariamente positive. Poi che se addirittura si metta questa cosa in relazione agli spread fa quasi sorridere. Sappiamo che l'andamento degli spread non dipende in modo così stretto dalle politiche che vengano attuate ma ha ragioni che stanno anche nella politica europea, nella politica monetaria, nell'atteggiamento della banca centrale, in quella che è l'aspettativa rispetto ai rischi di tenuta dell'euro. Per cui vedere questo rapporto meccanico tra l'articolo 18 mi sembra veramente qualcosa di inverosimile. Quindi non credo che nel caso sia questo l'argomento che può convincere sindacati e partiti che a mio avviso hanno anche buone ragioni per dubitare dell'opportunità di questo tipo di intervento. Sul tema delle liberalizzazioni oggi l'Ocse dice che le liberalizzazioni fatte dal governo Monti potrebbero portare a un aumento della produttività dell'8%. Ora il decreto è all'esame al Senato, c'è la possibilità che venga snaturato questo intervento. Lei che cosa ne pensa? C'è da fare delle modifiche a questo decreto e che tipo di modifiche? Allora, intanto su questi numeri, sì, ho letto anch'io che l'Ocse parla, o il direttore dell'Ocse parla di un 8% su un orizzonte, per la verità, di una decina d'anni. Sono stime, sono numeri che spesso si danno, ma diciamo su cui è lecito avere anche qualche perplessità. Può essere. Io non credo a questi effetti così forti. Però, senz'altro, le liberalizzazioni vanno fatte per molti motivi. E, diciamo, modifiche rispetto... C'è sempre la possibilità ovviamente di migliorare, soprattutto di intervenire magari su alcuni settori o su alcuni aspetti che sono rimasti un po' al di fuori. Magari ci si è concentrati su mercati di rilevanza un po' più marginale. Qualcuno ha giustamente messo invece, nella luce della necessità, di intervenire, per esempio, un po' di più sul settore bancario o di ragionare su aspetti come l'energia. Insomma, non tutte le liberalizzazioni, diciamo, hanno la stessa rilevanza. E, senz'altro, spazi di miglioramento ci sono. E, soprattutto, bisogna evitare che gli aspetti positivi vengano ridotti da, magari, interventi in Parlamento a difesa di interessi particolari. Per quanto riguarda invece la Grecia, non arrivano delle buone notizie? Quanto può influire sull'Europa e poi, in particolare, sull'Italia? Beh, questo sì, è un aspetto molto preoccupante, perché il rischio di un default non controllato del debito greco potrebbe determinare i cosiddetti effetti di contagio. Soprattutto se l'Europa non si dimostrasse in grado di gestire la situazione greca, potrebbe rapidamente manifestarsi sui mercati la preoccupazione di una situazione analoga su altri paesi in difficoltà e quindi, immediatamente, si potrebbero succedere effetti molto negativi, questo sì, sugli spread di paesi come Spagna, Italia. Quindi, dobbiamo guardare con molta attenzione e preoccupazione alla situazione greca.